. Kit Harington, Rose mi ha obbligato a vestirmi da Jon Snow al party. Kit, come ti vesti per andare a quel party in maschera? Da Jon Snow, ovviamente. . O così ti vestirai se è la tua fidanzata ad obbligarti a farlo. Questa è una storia di cattivo gusto, persone che non riconoscono gli attori e di subdo lo senso dell'umorismo di una fidanzata come Rose Leslie, che ha colto l'occasione per divertirsi un po'. . Festa in maschera? Jon Snow si traveste dai Jon Snow. . Nel corso della sua più recente intervista a Let Magazine, Kit Harington ha dichiarato di essere stato costretto dalla fidanzata Rose Leslie, presto moglie, ad acquistare un pessimo costume di Jon Snow da un commerciante che beffa assoluta, non lo aveva riconosciuto. . Il tutto per andare ad un'ottima festa in maschera e produrre il risultato più trust che si potesse desiderare. . Come ha fatto a convincere Kit? Oh, è molto semplice. . Rose Leslie si è avventurata per gli scaffali e ha tirato fuori il costume da Jon Snow, mostrandolo a Kit con i suoi grandi occhi a cerbiatta, non ti amerò se non lo indosserai, dovresti farlo. . . E come si resiste alla subdola coercizione di una donna a cui si ha appena promesso amore eterno? Non si resiste. . Kit Harington ricorda con rammarico l'attimo in cui ha messo piede a quella festa, è stato così imbarazzante. . Anche i camerieri che portavano in giro i canapè mi guardavano dall'alto verso il basso e si capiva subito che stavano pensando, sei triste, ragazzo mio. . Sei venuto alla festa vestito dal tuo personaggio. . Kit Harington, fidanzato ufficialmente con la sua Rose Leslie. . Kit Harington interpreta il ruolo di Jon Snow nel Trono di Spade da circa sei anni, e ha conosciuto la sua fidanzata Rose Leslie quando era ancora nei panni di Ygritte, sul set dello show. . Non è stato solo amore tra i due personaggi, la scintilla è scoccata anche per gli attori, che da allora non si sono più lasciati. . Dopo un annuncio di fidanzamento ufficiale sul Tea Times, le voci corrono. . A quanto pare, il matrimonio di Kit e Rose potrebbe essere una cosa così monumentale da far sospendere anche la produzione dell'ottava e ultima stagione dello show. . Del resto, saranno invitati praticamente tutti. Parlando al Jonathan Ross Show, Kit Harington ha rivelato il modo in cui han detto per la prima volta ai produttori che si stava sposando. . . Gli ho dato un giro di telefono e, non appena hanno risposto, ho proclamato, mi sto sposando ed è tutta colpa vostra, a dire la verità ha dichiarato scherzosamente Kit, facendo riferimento al fatto che è stato merito loro se ha conosciuto una donna come Rose. . . Dovete considerare, nel corso delle riprese, che ci sarà un matrimonio in mezzo. . Ci sarà da sospendere un po' tutto, perché naturalmente tutto il cast è invitato. . . Matrimonio in stile Vesteros? Assolutamente no. . Nessun travestimento, e nessuno può farmi cambiare idea a riguardo. . Non possiamo biasimarlo, meglio evitare anche solo di riportare la mente agli eventi delle nozze rosse…. . 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